Buongiorno e buona settimana a tutti carissimi e carissime di questo canale, ben ritrovati appunto. Vi do il mio buongiorno oppure se lo guardate in un altro momento, buon pomeriggio, buonasera. Allora, oggi andiamo a fare una sessione di cartomanzia spirituale interattiva, quindi che non scade, diciamo così, se si può usare questo termine, quindi questa forma di cartomanzia potete guardarla anche più avanti nel tempo perché comunque sia l'energia che arriverà da questi tarocchi, da queste carte che andremo a interrogare, ci risponderà in qualsiasi momento. Benissimo, io ho preparato, oltre ovviamente al mazzo delle mie carte, dei miei tarocchi, ho preparato quattro simboli per dividere le persone in quattro gruppi in base ovviamente alla vostra istintiva preferenza, quindi ognuno di voi adesso andrà a scegliere un simbolo, che ne ho messi qui, in modo da avere il risponso preciso per il proprio caso. La domanda che faremo con i tarocchi, con le carte, con i 78 arcani maggiori, è questa. La persona che amo mi pensa? Domanda molto classica, molto gettonata, ma anche molto essenziale ed importante. Quindi la persona che amo mi pensa? Ecco, questo è ciò che andremo a vedere oggi. I simboli sono questi, il braccialetto, quindi chi sceglierà il braccialetto, il cuore, il ciondolo e la collanina, che vi faccio vedere. Quindi ripetiamo, collanina, per le persone che sceglieranno la collanina, il ciondolo, il braccialetto ed il cuore. Quindi concentratevi, ma senza starci troppo, andate con il vostro istinto e scegliete subito adesso uno di questi quattro simboli. Quindi collanina, ciondolo, cuore o braccialetto. Ci siete? Uno, due, tre, quattro, cinque. Perfetto, sono sicura che avrete già scelto il simbolo che poi andrà a rispondere alla vostra esigenza. Quindi se la persona che amate vi pensa, vi pensa. Allora, mettiamo un attimo da parte i simboli e cominciamo dalla collanina. Quindi per tutte le persone che hanno scelto la collanina, andiamo ad interrogare le carte e andiamo ovviamente a rispondere al vostro quesito. La persona che amo mi pensa, il pensiero è su di me, questa persona mi va a pensare, mi sta pensando, ha il pensiero rivolto verso di me. Ponetevi anche voi questa domanda. Mentre io mescolo le carte, perché vanno ben mescolate, bisogna concentrarsi molto bene. E quindi per tutte le persone che hanno scelto la collanina, andiamo a dare una risposta. Andiamo a vedere se la persona che voi amate vi sta pensando. Benissimo. Adesso faremo una smazzata, ovviamente, e andremo a vedere quello che accade nella testa di questa persona. E mettiamo giù i nostri tarocchi. Allora, carissimi e carissime, possiamo dire questo. Avete questa combinazione che è uscita, vale a dire la forza girata, il fante di coppe e il giudizio. Allora, possiamo dire che la persona che avete nella testa è una persona abbastanza decoccio, abbastanza dispotica a volte, quindi vuole avere sempre ragione o comunque vuole avere l'ultima parola e a volte ha un comportamento che non è proprio gentile nei vostri confronti o non è così sensibile come voi vi auspicate. Quindi siete in una fase con questa persona di collegamento mentale che c'è, sì, che c'è, ma sappiate che è del tipo, dell'appartenenza delle persone che tendono a reprimere i propri sentimenti e anche quindi i propri pensieri. Quindi anche se vi pensa, e in questo momento vi sta pensando fondamentalmente, è una persona che farà fatica anche ad ammettere a se stesso o a se stessa che voi ci siete, che voi esistete, che voi siete parte della situazione o comunque c'è una situazione tra voi due, quindi nella coppia sia uomo-donna, sia donna-donna, uomo-uomo, dove uno dei due, in questo caso la persona che avete voi nella testa, vi sta pensando sì, ma è come se cercasse di reprimere a volte le situazioni. Tuttavia non sarà una cosa determinante perché fondamentalmente la persona che voi amate è attratta da voi, è molto attratta da voi, forse è anche un po' gelosa, direi anche questo sicuramente, e quindi non può poi fare a meno di avere un impulso di pensiero. Perciò il pensiero, come vi ho detto all'inizio, c'è. E questo concetto lo vediamo rafforzato dalla carta numero 20 dei tarocchi, che è il giudizio, quindi una carta dinamica, fondamentalmente dinamica, che porta a pensare sicuramente che il pensiero su di voi c'è e che magari non adesso, ma in breve tempo, questa persona esprimerà il suo pensiero o vi contatterà. Quindi non è una stesa negativa, semplicemente è una stesa che parla di attrazione, che parla di interesse, ma anche un po' del caratterino, diciamo così, poco malleabile a volte, o orgoglioso del soggetto. Tuttavia vi sta pensando. E presto, probabilmente, direi di sì, questa persona vi manderà un messaggio, vi chiamerà, si farà sentire o la vedrete. E questo è il risponso per le persone che avevano scelto la collanina di Coranno. Benissimo. Andiamo avanti. Riprendiamo il nostro mazzo e riprendiamo poi anche un altro simbolo, un simbolo di quelli che avete scelti voi. Prendiamo il braccialetto. Quindi questa lettura è per le persone che hanno scelto il braccialetto. Ok. Mettiamolo un attimo da parte. Di nuovo, concentratevi anche voi, mi raccomando, perché è molto importante. Mentalizzate la persona che vi piace, che amate. E fate anche voi questa domanda. La persona che io amo, x, y, z, mi pensa, mi pensa, mi sta pensando, mi, se vogliamo dire anche questo, mi desidera, ma soprattutto sta pensando a me. Ecco, questa è la domanda alla quale risponderemo per le persone che hanno scelto il mazzetto relativo al braccialetto, al simbolo del braccialetto. Quindi voi che avete scelto il braccialetto avrete questo risponso. State ben concentrate, state ben concentrati. Andiamo adesso a dare questo risponso. di nuovo questa smazzata. Un attimo che ci concentriamo e vediamo il pensiero di colui o colei che è nella vostra mente. quindi stendiamo le carte. Allora, carissimi e carissime, direi che questa può essere un'ottima stesa ed è un'ottima stesa soprattutto, non dico per tutti, nel senso generale, ma in parte è molto favorevole per il sesso femminile. Quindi per voi donne e ragazze che mi state seguendo possiamo dire che è molto più incentrata verso chi ha un partner o comunque ha nella testa una persona di sesso maschile. Ciò non significa che questa stesa sarà valevole anche per i maschi, per i signori, uomini o ragazzi. Ebbene, io direi che è una stesa molto positiva. Abbiamo l'ottavo arcano che è l'arcano della giustizia che appare in prima posizione. Quindi diciamo sì subito che il pensiero c'è. È un pensiero continuo, è un pensiero regolare, la persona è ben disposta nei vostri confronti, ha anche voglia, volontà di stare in vostra compagnia perché sicuramente la vostra compagnia fa sentire bene questo tipo di persona che ha caratteristiche di persona piuttosto calma, piuttosto pacifica o comunque di quelle persone anche se hanno un atteggiamento a volte un po' strano, un po' brusco, ma fondamentalmente sono persone di buon carattere, quindi bisogna saperle prendere. Perciò questa persona, uomo che sia nella vostra mente o donna che sia, ha un costante, costante pensiero su di voi, rafforzato da questo arcano che è l'otto di coppe, quindi un ottimo arcano in posizione rovesciata che simboleggia l'avvenire e la felicità, quindi vi sta pensando con gusto direi, sta pensando al futuro, sta pensando a ciò che potrà accadere fra di voi, sta, se vogliamo metterla anche così, fantasticando sul vostro rapporto e comunque c'è un clima mentale direi tranquillo e favorevole, quindi rassicuratevi voi che avete scelto il braccialetto perché la persona che vi piace ha degli ottimi sentimenti o meglio degli ottimi pensieri nei vostri confronti, pensieri positivi, non vuole usarvi, non vuole prendersi gioco di voi fondamentalmente, è una persona corretta, fondamentalmente è una persona seria e comunque sta idealizzando un prossimo futuro con voi, quindi direi che la stesa è oltremodo positiva anche in questo caso. Benissimo, andiamo avanti, andiamo avanti con la nostra cartomanzia spirituale interattiva e prendiamo l'altro simbolo che è quello del ciondolo, come vedete, del ciondolino d'argento che ha scelto il ciondolo avrà questa risposta. Andiamo subito a riprendere i tarocchi, a mescolarli, concentriamoci con grande tranquillità, senza ansia, senza fretta, state molto diretti con la vostra mente, visualizzate bene la persona che vi interessa, ponete anche voi la domanda XY mi sta pensando, mi pensa? Ecco, noi andremo a rispondere a questa domanda. per coloro che hanno scelto il ciondolino, il ciondolo. Benissimo, andiamo a mescolare bene, andiamo a muovere le energie che si muovono tra me e voi, tra me e la vostra mente e tra me voi e la persona che avete nella vostra ovviamente testa nella vostra mente, così come credo nel vostro cuore. La persona quindi che io amo, la persona che mi interessa, mi sta pensando, andiamo a vederlo. Andiamo a smazzare di nuovo e a dare la risposta che a voi interessa. Molto bene, allora ci siamo, mettiamo giù i nostri tarocchi. Benissimo, allora andiamo ad interpretare questa stesa, non so se poi vedete, sì, ma penso di sì, ecco qua. Dunque, pensiamo subito ecco a ciò che è uscito, otto di coppe girato, nono arcano dei tarocchi, cioè l'eremita o il saggio e il dieci di coppe sempre girato. Allora, come possiamo dare un'interpretazione alla domanda, di nuovo, la persona che amo, mi pensa? Benissimo, la diamo così. diciamo che avete vissuto un periodo che magari era un pochino migliore di quello che state passando adesso, sinceramente parlando. Quindi, c'è stato un periodo dove stavate meglio, vi raffrontavate meglio. Questo periodo non è che sia scomparso, ma in questo momento è un po' offuscato, questo va detto sicuramente perché la persona che avete nella testa si è come ritirata da voi, si è come allontanata un po' da voi, anche con un senso caratteriale non proprio pacifico, non proprio di grande delicatezza, dolcezza o comunque di grande attenzione. Quindi possiamo dire che in questo momento per le persone che hanno scelto il ciondolo la persona che avete in testa ha un pensiero un po' discontinuo perché nei vostri confronti è calato qualcosa, perciò non vi posso dire che vi sta pensando in maniera profonda, che vi sta pensando in maniera continua, mi dispiace ma non è esattamente così, anzi questa persona se ha un pensiero è un pensiero di voler più stare per conto suo, voler più allontanarsi e anche direi che per qualche motivo che voi magari indagherete o saprete già, è abbastanza arrabbiata, indignata con voi c'è qualcosa nella sua mente nel suo essere che la porta ad essere meno presente assolutamente meno attenta molto distaccata da voi quindi c'è un pensiero ma è un pensiero che non è esattamente positivissimo è un pensiero che coinvolge voi il vostro rapporto e che andrebbe sicuramente capito ed indagato meglio perché nel momento in cui noi stiamo esaminando questa lettura la persona in questione non ha una gran voglia di voi in questo momento non ha una gran voglia di concentrarsi su di voi neanche di vedervi più di tanto quindi il pensiero è un pensiero che c'è e non c'è e soprattutto è un pensiero che non è essenzialmente così fluido e positivo perciò io vi dico sempre la verità vi dico sempre la verità anche quando facciamo i consulti a vis a vis telefonicamente privati e lo stesso avviene in questa sede lo stesso non voglio edulcorare troppo la pillola non vi dico che ciò sarà una cosa che va avanti all'infinito ma il momento attuale non è esattamente favorevole quindi cerchiamo di capire perché questa persona si è allontanata si sta allontanando e perché con noi ha preso un atteggiamento non proprio favorevole benissimo andiamo a richiudere di nuovo i tarocchi e passiamo all'ultimo gruppo di persone cioè le persone che hanno scelto il cuore il ciondolo il ciondolo si vede eccolo qua dico sempre si vede perché a volte con questa camerina è un po' difficoltoso benissimo per le persone che hanno scelto il ciondolo il cuore la persona che amo mi pensa bene rifacciamo di nuovo questa domanda con grande mentalizzazione ma senza essere né troppo nervosi né troppo presi in maniera neutrale visualizzate la persona e andiamo a vedere qual è il pensiero della persona che avete nel vostro cuore che avete nei vostri pensieri vediamo se vi corrisponde a livello mentale e vediamo qual è la risposta per voi io amo mescolare molto le carte l'avete notato amo mescolare l'energia farla fluire allora andiamo a vedere per le persone che hanno scelto il ciondolo a forma di cuore o meglio il cuore se la persona a cui pensate vi pensa ci concentriamo ancora un attimo e smazziamo allora cosa possiamo dire andiamo subito a spiegare anche questa spesa qua che vede il lasso di spade o comunque la scusate regolo di nuovo la camerina l'asso di spade il fante di coppe è in posizione dritta e come arcano maggiore l'appeso come si va a interpretare questa stesa benissimo allora questa stesa ci parla fondamentalmente di un'attrazione piuttosto forte quindi l'attrazione non è che che manca da ambo le parti ce n'è dalla parte della persona che pensate ce n'è molta molta direi tanta attrazione da parte vostra probabilmente la situazione che andiamo a descrivere riguarda maggiormente non dico del tutto ma maggiormente le persone che da poco hanno conosciuto questo soggetto quindi che da poco hanno conosciuto questa persona quindi si tratta di storie iniziate da poco tempo per la maggior parte delle persone altrimenti si tratta di situazioni che si 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 sono instaurate ma che stanno passando un periodo non proprio di completa fusione tra voi perché perché questo asso di spade molto spesso allude ai litigi o comunque a un modo di raffrontarsi che non è un modo pacificissimo che non è un modo tranquillo perciò una persona che alla quale pensate che è piuttosto anche agitata piuttosto nervosa a volte brusca a volte anche non proprio propensa a contattarvi magari per prima tuttavia voi avete questa forte attrazione bene l'appeso ci chiarisce il quadro vale a dire diciamo che il pensiero non è esattamente così forte la persona sì è vero che ha una forma di pensiero ma è restia oppure non è ancora molto convinta di questo rapporto oppure non è particolarmente innamorata o particolarmente attratta al pari vostro ecco perché possiamo dire che c'è un pensiero sì ma è un pensiero ancora rarefatto altalenante quindi abbiate un pochino di cautela cercate di aspettare cercate di vedere come si comporta se vi contatta magari o come vi riaffronterete nel prossimo futuro perché la persona alla quale state pensando che state mentalizzando non ha esattamente gli stessi sentimenti che avete voi quindi non vi stupite perché siete più voi quelli che pensano che hanno questa forma di attrazione di pensiero fisso su questa persona che è la persona in questione dobbiamo arrivare a capire se questa cosa si può sciogliere può migliorare oppure se magari chi state pensando è una persona meritevole del vostro affetto della vostra attenzione attrazione oppure magari gli interessate ma fino a un certo punto questa è la risposta per tutti coloro che avevano scelto il cuore carissimi i carissimi rimettiamo a posto i nostri amici e amati tarocchi rossi e con l'augurio che questa lettura anche se rapida vi sia stata gradita vi sia piaciuta vi abbia risposto ricordate poi una cosa fondamentale questa è una lettura che ovviamente non avrà una copertura eterna i tempi muteranno come tutte le cose nel mondo ovviamente le cose vanno a mutare sia a volte in bene a volte magari no però la cosa importante è che voi stiate seguendo una strada giusta priva di illusioni che sono la cosa che forse fa più male carissimi e carissime con questa lettura io vi mando un bacio vi aspetto al prossimo video buona giornata buon pomeriggio buona serata buona notte quello che volete quando vedete il video sarà sempre il momento giusto da Simonetta un saluto e a presto